lunedì 30 novembre 2015 a voi tutti buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento la rassegna stampa di fano tv sul canale 17 del digitale terrestre siamo in diretta un saluto anche a chi ci segue in replica vediamo subito il santo del giorno oggi è sant'andrea apostolo auguri a tutti quelli che si può che si chiamano andrea sia uomini che donne perché è un nome che portano anche le donne allora il sole è sorto alle 7 18 e tramonterà alle 16 e 34 minuti oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con locali addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico le temperature sono in lieve aumento in particolare nei valori massimi i venti sono di brezza leggera sud occidentale il mare sarà poco mosso attenzione alle foschie o locali banchi di nebbia nei fondovalli durante durante la serata domani primo dicembre avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento nei valori minimi stazionari invece le temperature massime i venti sono di brezza tesa sud occidentale il mare sarà poco mosso anche domani avremo avremo delle foschie o locali banchi di nebbia nei fondovalle nelle ore più fredde della giornata la tendenza per i giorni prossimi sarà di condizioni di tempo stabile che perdureranno per gran parte della prossima settimana allora notizie notizie sui tre quotidiani il carlino il corriere il messaggero cominciamo dalla pagina di fano del corriere adriatico sotto l'albero c'è il profumo c'è profumo di ottimismo soprattutto per gli affari i commercianti i commercianti registrano un nuovo clima di fiducia mezzottero dice guai a chiudere via nolfi la parte la parte nord sarà per i timidi segnali di ripresa sarà per un rinnovato clima di fiducia giustificato da una leggera ripresa dei consumi ma a giudizio delle associazioni di categoria conf commercio e conf esercenti di fano le vendite natalizie quest'anno sono improntate all'ottimismo tiziano pedinelli della confesercenti dice sia chiaro ciò non significa che tutti i settori se la passano bene la cronaca sempre dalla pagina di fano del corriere adriatico molestava le ragazzine arrestato alla ferma arrestato ed è in cella restato un fanese di 78 anni deve scontare un anno di carcere dopo la condanna definitiva la giustizia è tornata a riprenderselo a sette anni dal compimento del disgustoso reato di cui è colpevole molestie a ragazzine che andavano e oppure tornavano da scuola i carabinieri di fano hanno arrestato quest'uomo di 78 anni riconosciuto colpevole di aver compiuto atti osceni nei confronti di diverse ragazzine minorenni questa fotografia vedete il capitano della compagnia dei carabinieri di fano alfonso falcucci l'altra pagina del del corriere adriatico è quella di pesaro pesaro punta questa mattina sul porto che cambierà fisionomia cambierà volto il comandante fa il punto sui lavori vocazione commerciale ma con grande attrattiva turistica il capuzzimato appunto il comandante è in atto dice la procedura di gara per l'affidamento dei lavori del dragaggio sotto candelara è già pienone al primo weekend l'altra pagina invece quella di pesaro urbino andiamo a fossombrone anche qui la cronaca raid di furti identificato il capobanda aveva rubato l'auto del custode di san filippo e tentato colpi in sei case la pagina di ancona invece del corriere minaccia di impiccarsi sul peschereccio un armatore un armatore disperato dopo il sequestro della barca per cinque ore rimasto sulla torretta con una corda legata al collo il dragut fermato insieme all'impavido da un'indagine per corruzione a roma colella convinto a scendere matteo colella è appunto l'armatore sette famiglie sono senza soldi e dicono se ci fermano siamo senza soldi se ci fermano proprio nel mese di dicembre adesso andiamo sul sul resto del carlino resto del carlino anche qui la cronaca si esibiva con le ragazzine e le caricava in auto per un ottantenne si aprono le porte del carcere sentenza ingiudicato arrestato dai carabinieri potrà chiedere i domiciliari si metteva vicino alle fermate dei degli autobus poi attendeva le ragazzine e si spogliava spesso mimando gesti inequivocabili poi il carlino scrive anche quel mito da sfatare ovvero rappresenta un falso un falso mito il fatto che l'età quindi 80 anni circa l'età comunque avanzata possa o faccia evitare il carcere almeno per determinati reati per violenza sessuale sui minori insieme a reati come l'omicidio la rapina aggravata la prostituzione minorile sequestro di persona e altri gravi reati si va comunque in galera anche a cent'anni a Candelara assalto alle candele e a Pesaro la beffa invece della pista di ghiaccio in ghiaccio in piazza l'impianto apre solo di pomeriggio le mamme e i bambini sono delusi sono arrivati ieri a Candelara 60 Pullman e nel fine settimana sono state totalizzate già 9500 presenze poi si parla del concerto di Capodanno l'appuntamento sarà gratuito e probabilmente affidato ai dj di Radio 105 ancora dal quotidiano andiamo sulla pagina di Fano del quotidiano Resto del Carlino la politica locale conter verso la tua Fano Letizia Conter in questa immagine con Silvio Berlusconi l'ex presidente del club Forza Silvio si avvicina dunque a Stefano alla lista di Stefano Guzzi sotto invece una buona notizia ma è da tanto che soprattutto per chi viaggia per chi frequenta e viaggia sulla Flaminia anche per esempio per andare in Umbria o a Roma da oggi iniziano i lavori per la sistemazione del buco che si è creato un anno fa nel viadotto sulla superstrada Flaminia alle porte di Cagli i lavori dovranno essere conclusi almeno così si spera entro il prossimo 20 di dicembre la questione delle tartarughe spiaggiate ce ne sono e ce ne vengono davvero segnalate tantissime sotto monte questo è il titolo cimitero di tartarughe fenomeno di ampie dimensioni diverse carcasse non sono state ancora rimosse alcune sono state recuperate altre invece stanno ancora lì immobili sulla sabbia come macabri souvenir tra la curiosità di passeggiatori ciclisti e pattinatori lungo la pista ciclabile poi sempre dal resto del Carlino dicevamo del porto il nuovo porto di Pesaro capitali maltesi per il cantiere navale previsti hotel di lusso e ristorante il comandante Capuzzimato diventerà dice uno scalo internazionale poi c'è un'indiscrezione cioè dietro la nuova proprietà ci sarebbero i russi che operano al porto di Bar il progetto di ristrutturazione dell'intera area dell'ex CNP affidato ad uno studio pesarese e dunque la pagina adesso per chiudere del messaggero in apertura anche qui il porto obiettivo sarà quello di creare 200 posti di lavoro serie di riunioni tra il cantiere navale tra il comune di Pesaro e il comandante della Capitaneria già arrivato uno yacht da 44 metri in previsione un albergo come dicevamo per ospitare gli equipaggi poi su bancamarche i rischi sono stati sottovalutati sotto invece si barricano nell'abitazione per rubare è successo a Pesaro i ladri hanno ammassato all'ingresso i mobili per agire indisturbati e insomma per agire indisturbati e non trovarsi di fronte a brutte sorprese come il rientro del padrone di casa i ladri si sono barricati dentro l'abitazione letteralmente hanno preso dei mobili le hanno ammassati contro la porta d'ingresso dell'appartamento e questo è successo nella serata di sabato in un'abitazione in via Nicolo Tommaseo nella zona di Pantano siamo sempre a Pesaro guardate che piazza che sono riusciti invece a costruire, a fare, a realizzare a Pesaro questa poi tra l'altro questa foto che è sì bella scattata da Tony ma ce n'è una che sta circolando su Facebook con dei commenti anche di Fanesi, gente di Fano che sta facendo i complimenti a questa piazza pesarese che quest'anno devo dire ha realizzato davvero bella soprattutto visto dall'alto anche dalla sede del comune con questi gazebo, con i tettucci colorati, questi fasci luminosi, questo albero vero tutto illuminato una bellissima piazza che ripeto che sta girando sui social e sta ottenendo complimenti anche da parte dei Fanesi infatti il titolo è la piazza di Pesaro che conquista, la piazza di Natale che conquista tutti quanti e in attesa di vedere poi la nostra faremo poi un confronto giustamente con noi abbiamo l'albero in legno vediamo come siamo curiosi di vedere come sarà allora invece le notizie in breve lo vedremo anche tra poco per quanto riguarda il calcio ma sul basket la VL arriva, la Vanoli l'ultima volta di Shelton questa sera c'è il posticipo, la VL basket gioca fuori casa andiamo a vedere, ecco forse questa è la foto che dicevo prima eccola qua, la foto di Piazza del Popolo a Pesaro che piace e mette tutti d'accordo tra le più belle d'Italia, pienone di folle in centro mentre lo scenografico effetto dell'illuminare fa scatenare ah ecco vedi sui social il derby con Fano non l'avevo letto prima perché non l'avevo fatto in tempo però avendo visto ieri sera un po' già i commenti sui social che circolavano già dalle prime ore insomma della sera, le bancarelle della piazza visto dall'alto che formano un cuore guardate che bella piazza davvero complimenti allora andiamo adesso invece l'ultima quella di Pesaro e provincia sempre dal messaggero poi diamo uno sguardo al calcio velocemente prime mosse per il porto che verrà siamo sempre su Pesaro oggi ci sono gli inserti sportivi naturalmente sono poche le notizie che arrivano dalle città cicloturismo no a nuovi hotel vanno migliorati quelli esistenti poi sotto ancora cronaca Atiosceni ha 78 anni deve andare in carcere ecco allora la pagina del calcio serie D quattordicesima giornata il Fano ci crede e si rilancia ieri a Castelfidardo ha segnato due gol quindi ha vinto 2-0 Granata cinici e implacabili contro un Castelfidardo al di sotto delle attese apre le danze cioè segna per primo Gucci poi Sivilla chiude i biancoverdi recriminano e danno la colpa all'arbitro poi il giornale scrive ora la vetta della classifica è più vicina grazie anche al passo falso della San Benedettese sotto dagli spogliatoi un primo tempo regalato Sarnari implacabile mentre l'allenatore del Fano Alessandrini dice entrati con il piglio giusto stasera naturalmente c'è la partita la potrete vedere subito dopo il telegiornale che andrà in onda alle 20.30 io mi fermo qui con la rassegna stampa ci rivediamo domani grazie per averci seguito e buona giornata a tutti e buona giornata a tutti